Luce intensa di fuoco, fuge in uomo e va verso la terra, spegne gli occhi di chi non può vedere, barca i limiti dell'universo, cede il basso, la mia natura umana si allontana da me, ora in alto non so più cosa accade, la mia vista si illumina! Grazie a tutti! Grazie a tutti!